Funziona? Funziona? Ditemi com'è. Farge team. Aspetta che cerco. Ricarichiamo la page. Ancora. Marilu. Perché non mi esce? Perché ciò, mi sa, 30 secondi di... Com'è? Eccolo! Oddio, che brutta risposta! Che sta finché la web camera lagga come lo schifo io ti ho detto. Come lagga? Mi giuro, non lo schifo lagga. Allora aspetta che la rimpicciadesco. Ragga, lo potete pure voi andare là? Rimpicciadesco giusto per non dire... Per vedere che non ce l'ho. Che non ce l'abbia. Che non ce l'ho. Ho detto che non ce l'abbia. Ragazzi, spammateli in vidi così li faccio... Ma lagga botto! Fra, string! La streaming lagga. La streaming lagga. Contra te. Aspetta, impostazioni, allora... No, ma tutto lagga! Eh, c'ho, c'ho 6.000 di bitrate, aspetta. Se tipo metto 2.000... No, non ci sono in vidi. No, l'ho fatta io, l'ho fatta io. L'ho fatta io. Non ci sono anche un video di sotto. Si rinforzate io. Non ci sono stati un video. Più passi io. Nero, non ci sono! Grazie a tutti. Grazie a tutti.